Un normale controllo trasformatosi in motivo di aggressione è accaduto a Trinitapoli nei giorni scorsi. Un 26enne del luogo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con applicazione nel braccialetto elettronico. Tempo fa era stato già segnalato dai militari perché durante un controllo di routine era stato trovato senza autorizzazione in compagnia di altri due soggetti. Questa volta ricevuta nuovamente la visita dei carabinieri il 26enne ha avviato una conversazione animata proprio con uno dei militari che lo avevano segnalato per la violazione delle prescrizioni a lui imposte andando così in escandescenza. Dopo aver minacciato di morte il carabiniere lo ha colpito al volto procurandogli la rottura degli occhiali ed un taglio al naso. Grazie all'intervento di altri militari sopraggiunti a soccorso il 26enne è stato immobilizzato e portato in caserma dove è stato dichiarato in arresto per resistenza e violenza pubblico ufficiale dopo le formalità di rito. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Foggia.